Brava, brava. Ma infatti sì, è solo un'altra partita. Non è che può così, però... Sì, era l'ultimo giorno, l'unico anno che c'era, che c'era il ragazzo di... Certo. Sì, perché altrimenti... No, no, adesso ho già filmato. Ma cosa fa? Ma quindi è che è più merla? Grazie a tutti